Orte quello cuno si è fatta una gran bella famiglia! Mi chiedo solo quanto spendano quando devono andare in vacanza! Nel posto giusto niente? Davvero? E come sarebbe il posto giusto? Il pianeta della prossima canzone! Oggi andiamo nel pet saloon di Barbie! Il salone di bellezza per gli amici a quattro zampe! Meraviglioso! Tutto funziona perfettamente! Le extension cambiano colore! Le unghie si colorano magicamente! Trova il suo look perfetto! Pet Saloon di Barbie da Grandi Giochi!